La BCC Treviglio si ritrova dopo tanti mesi. In occasione del Media Day ieri pomeriggio al Palafacchetti presente staff, giocatori, dirigenti e addetti ai lavori. Tante le novità in vista per la prossima stagione, a partire dal coach Davis Cagnardi lo scorso anno da Rigento, andato a sostituire Adriano Vertemati. Presenti tutti i nuovi acquisti dai ritorni di Nicolic e GG Fraser a quello di Simone Pepe, arrivato da Rigento, così proprio come il nuovo coach. Il presidente Gianfranco Testa ha così commentato il primo giorno di lavoro della sua squadra. Oggi abbiamo una squadra nuova e penso che sia la cosa più interessante, l'ho definita così perché sicuramente è una squadra che ci darà soddisfazioni, consapevoli del fatto che oggi i protagonisti vedi sono loro perché il pubblico per un po' mancherà e speriamo che fra poco ritorni. Quindi direi che bene, è bello rivedere le facce in giocatori, alcuni nuovi, alcuni confermati che devo ringraziare perché hanno sposato per l'ennesima volta il nostro progetto e sono pronti a dare il meglio.